Mattia Felicetti, chi è lui? Lui è un atleta, professionista, è un mio grandissimo amico, con lui abbiamo fatto un sacco di lavori, tra cui il documentario che mi ha fatto iniziare a bazzicare nel mondo video. Ok, lui è un mio carissimo amico, atleta, sciatore, schier, pazzo. E ti ha coinvolto lui nel documentario? L'abbiamo fatto insieme mentre arrampicavamo, stavamo arrampicando, abbiamo pensato di fare un lavoro in Groenlandia, lì è stato, e poi giriamo parecchio, andiamo a fare spezzoni, sciate, cose così insieme. Cioè tu sei intanto atleta e sportivo e poi è nata la passione per il video? Beh, io arrampicavo eccetera con lui, sciavo con lui e quindi abbiamo iniziato a fare foto insieme, poi video insieme. Perché tu prima sei fotografo? Io prima sono fotografo, 10-11 anni fa e poi adesso dal 2015, 2014 ho iniziato a filmare, in realtà ho iniziato a filmare prima cose molto basiche, divertenti tipo i classici green screen, lavoretti di After Effects eccetera, e poi nel 2015 invece ho iniziato a fare le cose serie come vanno fatte. Poi in un'intervista che abbiamo fatto prima, dove parlavamo appunto della RED, della 5K, dicevi che hai preso proprio questo modello qua perché ti permette di fare foto e video di altissimo livello contemporaneamente, giusto? Sì, più che il modello all'inizio la scelta era per RED, ovvero una telecamera che mi permettesse di non dover scegliere per forza se avere solo la foto o se avere solo il video. L'ideale ovviamente per questa cosa qua è l'8K, monstro, però bisogna che guardarsi in tasca e quindi mi sono accorto che la Raven era un po' troppo tirata sulle foto, nel senso che pochi megapixel, sensore un po' più piccolo, rumore un po' più presente, quindi lo step dopo per me è stato questo, in modo da avere possibilità di lavorare in scarse condizioni di luce, avere una grandissima gamma dinamica, avere comunque un bel sensore, un bel po' di megapixel per poter usare le foto anche per motivi commerciali. Mi dicevi prima che tu sei operatore di OP, un po' di OP, un po' di OP, un po' regista, insomma, sai, sono le... Cioè si nasce come... No, è che per me è una realtà che è montana, non è la realtà cittadina e questo si riflette in qualsiasi ambito aziendale, cioè dall'albergo al video al qualsiasi altro lavoro e si tende un po' a farsi con quello che si ha. Quindi è naturale che se tu hai la passione di fare gruppo, fare video, organizzare, sei anche il regista. Non vuol dire che hai lauree o carte che dicono che sei un regista, però sei quello che porta, fa, trascina, eccetera. Se poi se vieni dalla fotografia, per me è più naturale essere un DOP, perché venendo dalla fotografia il mio occhio va di più sulla luce, la gestione della scena e tutte queste cose qua, ovviamente. La regia è la necessità di dire se non ci sei te che spingi gli altri... Certo, quindi hai portato avanti più skills contemporaneamente. Esatto. Cioè che abiti sotto le Dolomiti. Abito ai piedi delle Dolomiti in band di Fiemme. Ed è un po' questa tua geolocalizzazione che ti ha formato le skills principali. Sì, sì, esatto. Alla fine, dalle radici sono nate tutte le skills. Quindi sì, in realtà tutta la mia specializzazione arriva dal posto da dove vengo, nel posto dove vivo, quindi le montagne. Quindi i tuoi clienti normali per ora chi sono? Si possono dividere in due rami. C'è il ramo di grossi progetti, quindi documentaristici e reportage. E poi c'è il ramo invece del cliente commerciale o di reportage commerciale che può essere l'azienda di sport o l'azienda di promozione turistica o tutte le cose che possono essere legate alla montagna. Quindi qualsiasi cosa legata alla montagna. Ho lavorato per aziende di bici elettriche, ho lavorato per gare di corsa e tantissime altre produzioni. Perché comunque la montagna è un po' al momento il fiore all'occhiello è quello che vende. Quindi tutti vengono in montagna, dalle auto allo sport, alla moda a volte. Su questo, l'acquisto di una Gemini 5K, l'hai fatto per trovare nuovi lavori, cioè per entrare in un mercato a cui prima non avevi accesso o per migliorare la qualità dei tuoi lavori che già avevi? Beh, innanzitutto, più che per migliorare la qualità era per iniziare. Per iniziare. Per iniziare. Inizio, pronti via. Sì, era per iniziare perché mi sono fatto un minimo di esame di coscienza. Il pensiero è stato, ok, siamo in un periodo dove la richiesta fotografica cala, la richiesta video cresce. A me continuano ad arrivare richieste video. Il problema è che se sei un fotografo e sei abituato a ciò che ti dà in mano il RAW di una reflex o il RAW di una medio formato, non potrai mai essere soddisfatto di una macchina che fa video e non lo fa in RAW o non ti dà la gamma dinamica e la lavorabilità di una fotografia. E quindi ti sentirei sempre tagliato. Io ho lavorato per tanto tempo con le 5D e mi sono sempre trovato molto quasi disturbato a usarle perché non riuscivo ad avere le stesse sensazioni che ho nello sviluppo delle foto. Ah, cioè facevi video con la 5D? Sì, 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 sì. Chiaro. Quello ti sentivi un po' povero? No, più che altro mi sentivo con le mani legate perché non potevo fare tutto quello che posso fare attualmente con i RAW delle macchine fotografiche. Quindi mi sono detto non posso continuare a fare dei lavori che non mi soddisfano perché se non mi soddisfa vuol dire che non sono propenso a migliorare o a studiarci qualcosa. Certo. Perché non mi soddisfa e quindi non è mio interesse farlo. Ok. Tutto qua. E quindi Red è stata per me il modo di dire ok posso avere un upgrade nel senso che posso fare foto e video insieme. Attualmente è una cosa che capita molto spesso. Posso fare dei gran bei in slow-mo e ralenti che è una cosa che serve nell'ambito dello sport. Posso girarmi i miei documentari avendo una macchina che è molto affidabile e che quando la scarico al computer posso lavorare pari pari come lavoravo o anzi come lavoro attualmente le foto. Ok per uno qui siamo a Milano ovviamente e ho un negozio di noleggio e attrezzatura molto piccolo però da qua passano tutte le piccole produzioni un po' indie, un po' piccoli spot, piccoli short. Però il mondo è sempre quello del Milan esotto quindi non abbiamo a che fare con condizioni estreme. Com'è questa camera nelle condizioni limite in cui la porti tu? Beh per me è perfetta. Cioè io sono arrivato, le mie condizioni limite sono state dai meno, penso che il minimo che sia stato è meno 20, a più 35 e non ho avuto nessun problema. È stata appesa con me in cascate di ghiaccio all'inverno, è stata appesa su roccia, ha girato il fango, ha girato la polvere. Il fatto che abbia queste prese di ventilazione credo per raffreddare, cioè non c'è problema che entrano schifezze? È la cosa che a me mette più ansia in realtà, quindi tendenzialmente io cerco di tenerle, se so che sta arrivando polvere queste cose qua, quindi nei limiti cerco di tenerle riparate anch'io insomma. Diciamo che è raro che finisci sotto una pioggia di polvere, sassi eccetera, è molto più facile che ci entri dell'acqua. Comunque non ho veramente avuto problemi, dal punto di vista costruttivo non ho avuto nessun problema anzi. Ovviamente al freddo come tutte le cose, lcd eccetera rallentano quindi meglio il viewfinder. Cioè l'lcd rallenta proprio? Sì sì, il display è meno reattivo, fa un po' fatica, fatica un po' quindi avere qualcosa di più riparato aiuta. Questo è il motivo per cui uso anche la maniglia, perché così non devo per forza andare con le dita, se è bloccato e è lento vado a mano. Però mi spiegavi prima che la maniglia oltre a darti questo vantaggio ti dà anche la possibilità di modificare fuoco. Sì sì, mi permette che quando sei su roccia e stai filmando in basso e magari sei schiacciato e non hai spazio di movimento, puoi comunque modificare il fuoco, lo modifichi a mano. Il rack lo modifichi con una mano, Iris lo modifichi con la stessa mano, controlli l'esposizione, potenzialmente fai tutto con una mano sola. Questa è veramente una cosa importante, perché ti risolve dei problemi, cioè tu sei autonomo con una mano di fare tutto, REC, Iris, Fuoco e poi hai tutti i tasti opzionali. Sì, per come ho impostato io i tasti opzionali ho veramente tutto in una mano, posso verificare l'esposizione, essere sicuro della messa a fuoco, cambiare la messa a fuoco, mandare in REC, posso entrare in tutti i menu sempre con la stessa mano. Da questa maniglia entri veramente in tutto il menu della telecamera, quindi potenzialmente potresti non spostare mai o non usare mai l'altra, la sinistra. Senti, cos'è che ti rende un po' unico come operatore? Penso che l'unicità sia data dal fatto della nicchia in cui opero, cioè il fatto di aver in questi anni sviluppato uno stile che è molto arrivo in location e sono pronto a scattare. O sono pronto a filmare. Quindi vuol dire essere capaci di fare una preparazione prima, non essendo in quella location, perché anche qua non ci possiamo andare in quel momento. Queste sono tutte immagini che hai fatto tu? Sì, sì, questo è il famoso primo docufilm che mi ha portato a dire ma voglio fare foto, voglio fare video e quindi a scegliere di fare tutti e due insieme. Appunto, in questi casi qua non puoi lavorare facendo passare troppo tempo, è tutto troppo tirato, pericoloso, ma anche se non è pericoloso comunque l'atleta si stanca e psicologicamente è molto difficile. Quindi diciamo quella cosa là, cioè il poter lavorare in serenità anche quando sei sotto pressione psicologicamente. Quindi non è solo il fatto di dire perché so fare un nodo e sono appeso a una corda, ma anche perché so lavorare in una condizione che è molto difficile. Perché arrivi, sei scomodo, non esiste niente di comodo qua, è freddo, hai guanti e così. E tuttavia devi far ragionare il cervello per dire devo comporre bene, non vibrare, non posso vibrare. Devo usare le impostazioni giuste, non posso lasciare niente al caso, devo portare a casa anche delle immagini decenti. Certo. Quindi penso che questa cosa qua sia più la... Senti, qual è la cosa più difficile del tuo lavoro? Secondo me la cosa veramente più difficile è muoversi in leggerezza. Cioè? Cioè che non sai mai se avrai rimpianti. Tu vuoi girare con due lenti perché devi avere uno zaino leggero, perché devi fare tre ore di sci in salita prima di raggiungere la zona dove filmi. Devi decidere. Cosa porto? Un grand'angolo, un medio? Un grand'angolo, un tele? Un medio, un fisso? Devi scegliere. Devi per forza scegliere, voglio la qualità e lo sfogato del fisso o voglio due zoom e mi accontento? La scelta per essere leggeri queste o quante schede, cioè le batterie, le schede pesano. Quindi devi sempre scegliere, mi basterà una scheda, me ne basteranno due, meglio tre le batterie. Capito? Gli accessori, tutto molto... Eh sì perché devi... Questa cosa veramente penso più complicata in assoluto. Sei arrivato con uno zaino e dicevo, dove è tutta la tua attrezzatura? No, veramente qui dentro. È l'abitudine, infatti anch'io vedo molto girare anche queste casse di plastica, i case. Cioè nel mio caso è veramente... Ma tu imballi, cioè dentro stoffe? No, nello zaino è così. È lo zaino, quelli classici fotografici con i loro separatori. È differente a essere nei viaggi in aereo. Viaggi in aereo, case ovviamente. Però poi arrivi lì, cioè il case con dentro lo zaino. Quindi poi arrivi nel posto, tiri lo zaino e è già pronto per lavorare tendenzialmente. Cos'è che si potrebbe consigliare a qualcuno che va a fare delle riprese un po' estreme? Ma secondo me la cosa più pericolosa, per chi non è abituato, è semplicemente mantenere buona l'attrezzatura con le situazioni di condensa, che poi è quella che va un attimo a intaccare di più tutte le varie cose. Cioè ti va a crearsi la condensa anche sul sensore? Potrebbe anche esserci il rischio. In realtà poi il sensore rimane sempre caldo. Quindi tendenzialmente con il sensore sempre caldo non dovremmo avere problemi. Io lavorando all'inverno devo dire che le macchine fotografiche, i loro problemini ogni tanto li fanno vedere per la condensa. Anche se non, il fatto è che anche se principalmente non andasse a intaccare direttamente qualcosa è comunque una sorta di collante di polvere, tutte queste cose qua, che poi vengono messe in circolo in tutta la telecamera. Quindi secondo me il fattore condensa è il saper trattare l'attrezzatura in queste situazioni che non vuol dire andare all'inverno, perché in montagna all'estate, di sera fa comunque freddo e la condensa si crea lo stesso. Quindi per me è già una situazione estrema quella. Quindi secondo me l'unica cosa è questo. E conoscere veramente a meno dito la telecamera, conoscere a meno dito la telecamera in modo da poterla impostare subito, perché questi alla fine sono reportage, non sono cose costruite. quindi uno deve essere abbastanza... Diciamo che gli atleti non sono lì disponibili come gli attori. Non gli puoi chiedere? Scusa, puoi ributtare un attimo i cavi? Guarda, io ho fatto un documentario in Iran, ho girato un documentario in Iran dove questo atleta, lui ha scalato insieme a Messner per la prima volta gli 8000 senza ossigeno, e lui arrivava in un punto, si tracciava la sua linea col piede e diceva io oltre qui non torno più giù. Quindi tutto quello che volete fare lo facciamo in su, che vuol dire non rifaccio. Anche perché camminavamo, per un mese camminavamo milioni di ore al giorno. Cacchio. Quindi lui tirava la linea e la troupe si spostava sopra, si faccia quello che voleva, lui andava avanti, tirava la linea e via. Quindi in realtà questo è il modus operandi della cosa. Cioè gli atleti spesso e volentieri fanno fatica a rifarti le cose, quindi devi veramente sapere e fare in velocità. Super. Hai un sogno nel cassetto che ti stai portando avanti? Ma guarda, in realtà già aver la possibilità di girare, filmare, fotografare in posti come la Groenlandia, vediamo qui in posti come l'Iran, in posti come il Canada, è già un sogno, quindi in realtà non andiamo oltre. Ovviamente il sogno che può avere chiunque faccia video è quello di dire arrivare a un livello dove hai riconoscimenti, magari internazionali, quello è un po' il sogno di tutti, perché si sa, il riconoscimento porta notorietà, porta al cliente, porta più attenzione da parte anche delle case produttrici dell'attrezzatura che usi, quindi porta anche più servizi, quindi quello può essere il sogno. Poi tu sei molto attivo sui social, hai una pagina Instagram molto forte, ti sta aiutando un po' nel mestiere? Cioè è una cosa che consigli? Devo dire di sì, social magari chi la vede dal punto di vista venale dice se non porta soldi non vale la pena, secondo me porta comunque conoscenze, network, che è molto importante nel nostro mondo del video, è importantissimo, quindi ti porta a fare network, a conoscere colleghi, ad avere spunti e personalmente sì mi sta portando molto dal punto di vista di persone che interagiscono con me e quindi da cosa nasce cosa e o conosci colleghi con cui puoi collaborare e fare progetti a un livello più alto o conosci il tuo prossimo cliente. Super. Noi ci siamo conosciuti un po' su Instagram. Esatto, noi ci siamo conosciuti con i social, quindi se ci pensi a questa è la cosa che adesso parliamo. Ma guarda, io sono molto contento di questa chiacchierata, degli altri video che abbiamo fatto e... Io ti ringrazio per l'invito. Te li invierò per accettazione. Ma volentieri. Grazie infinito. Grazie mille. Super. Grazie. Grazie a tutti.